Allora, cominciamo subito con la proiezione delle slide che poi vi verranno fornite, che sono la sintesi del delibera di giunta che ieri ho portato all'approvazione della giunta. Premetto che questo provvedimento è il frutto di una sperimentazione che è durata mesi, che è partita dalla criticità dei pronti soccorsi, ha cominciato da Pesaro, Ancona, Torretta e così via. Si vuole dare una risposta sostanzialmente al tema delle probabili criticità che potremmo registrare con l'afflusso di milioni di turisti lungo le nostre coste e soprattutto per il fatto che già essendo il personale dei pronti soccorsi carente, in sotto organico c'è la necessità di garantire a queste persone il riposo, il diritto alle ferie. Quindi riteniamo che questo possa essere una modalità riorganizzativa. Adesso darei la parola a Dottor Lagalla che presenta rapidissimamente le slide perché poi forniremo a tutti quanti. Buongiorno a tutti, come ha detto giustamente l'assessore, questa delibera è il frutto di una serie di analisi che abbiamo fatto a livello regionale. Sostanzialmente il problema è appunto quello del sovraffollamento dei pronti soccorsi. Il problema principale riguarda la domanda sanitaria. Spesso la domanda di assistenza in ambito di emergenza e urgenza supera la disponibilità appunto degli operatori. Può dipendere anche da fattori legati appunto al personale, come diceva lo stesso assessore. E questo ha delle conseguenze su tutto il sistema, non solo nei confronti dei pazienti che si trovano a dover sostenere dei tempi di attesa molto prolungati in pronto soccorso, ma anche per gli operatori che comunque vivono e lavorano in una situazione di stress e quindi con il rischio di burnout. E poi anche tutto il sistema perché comunque la permanenza prolungata in pronto soccorso genera delle problematiche di tipo organizzativo anche per ciò che riguarda i flussi dei ricoveri, i passaggi, le richieste di esami. E comunque con un peggioramento anche dell'outcome nei confronti del paziente stesso, quindi con delle ricadute anche di tipo sanitario nei confronti del paziente. Nella successiva depositiva abbiamo solamente riportato la delibera praticamente che ha recepito l'accordo Stato-Regionale del 2019 che rivede proprio tutti i percorsi e che chiede alle regioni di cercare di uniformare il più possibile i percorsi del triage, dell'osservazione breve intensiva e introdurre delle modalità efficaci per la gestione del sovraffollamento a tutte le regioni che è stato recepito appunto con una delibera del 2019. Ovviamente in questi ultimi due anni, dopo il 2019, dopo il recepimento della delibera ci sono stati due anni di Covid che hanno creato comunque delle problematiche anche per la gestione dell'applicazione dell'accordo Stato-Regione. A seguito di una ricognizione fatta appunto con una serie di riunioni anche indette dall'assessorato e dal Dipartimento Salute con tutti i principali stakeholder, quindi le aziende, gli enti del sistema sanitario regionale e si sono identificate dieci misure che possono in qualche maniera essere appunto che sperimentiamo in questi due mesi estivi che saranno quelli in cui ci saranno appunto le ferie del personale, la nostra regione per fortuna è una regione a forte attrazione turistica, quindi ci sarà sicuramente un'afferenza ancora superiore a quella che abbiamo avuto finora, sono delle misure che sperimentiamo per cercare di capire se si riesce in qualche maniera a migliorare le performance del nostro sistema di emergenza urgenza. La prima è l'ottimizzazione dell'attesa attiva, sono previste delle misure che migliorano l'attesa del paziente nella successiva, io perché non ho il comando qui delle diapositive e quindi migliorando in qualche maniera la comunicazione nella diapositiva successiva, la vediamo, sembra data, comunque un miglioramento della comunicazione efficace ed empatica nei confronti dei pazienti perché noi sappiamo che le conflittualità nella maggior parte dei casi nascono proprio da magari un messaggio che non è empaticamente e correttamente trasferito alle persone che attendono. Ah perfetto, ho il benissimo, sì perfetto grazie. Poi c'è un discorso anche di comfort, di miglioramento dell'attesa attiva perché appunto molte conflittualità possono nascere da situazioni strutturali non adeguate, la presenza comunque di dispositivi che per esempio che erogano bevande cibo, comunque la garanzia di un ambiente che possa essere più possibile di facile fruizione per il paziente. Poi la gestione delle conflittualità, è stato proposto l'integrazione nel pronto soccorso di figure che in qualche maniera possono aiutare a gestire le situazioni ma soprattutto a prevenirle. E poi la trasparenza informativa, dare informazione al paziente con dei display, con dei sistemi informativi che garantiscono al paziente di conoscere esattamente i tempi di attesa, quanto manca per un esame, quanto tempo manca per chiudere il percorso, rendono sicuramente il momento dell'attesa che in qualche caso si può prolungare oltre quello previsto appunto dall'accordo Stato-Regioni in una maniera meno diciamo più facilmente accettabile dal paziente stesso. Un'altra misura che è stata messa in campo è quella di istituire, anche se molte strutture già è presente ovviamente, ma chiediamo un'identificazione formale del bed manager che deve però avere degli strumenti che gli consentano di disporre intanto del numero dei posti letto disponibili a livello dell'ospedale che devono essere necessariamente messi a disposizione e soprattutto deve avere una serie di collegamenti e quindi funzionali e organizzativi anche con le strutture territoriali in modo da favorire i processi di trasferimento dei pazienti e di ricovero ed evitare quindi lo stazionamento prolungato in pronto soccorso. Un'altra misura che è stata messa in campo è quella per gestire direttamente il sovraffollamento, quindi appunto c'è questo sistema di monitoraggio che consente di capire quanti posti letto sono disponibili, quanti posti letto sono stati occupati, quanti pazienti stazionano in pronto soccorso ed è uno strumento che sarà a disposizione in maniera immediata al responsabile del pronto soccorso il quale dovrà attivare una serie di misure nel momento in cui si accorge che questi indicatori mostrano un peggioramento della situazione di sovraffollamento in pronto soccorso, attivare delle misure che consentano di risolvere il problema o addirittura di evitare che insorga. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di evitare assolutamente lo stazionamento dei pazienti prolungato in pronto soccorso in maniera per carenze organizzative in qualche maniera. In ogni caso quando non è possibile fare altrimenti o comunque ci sono delle situazioni di particolare criticità addirittura comunque fornire dei surprise, dei comfort di tipo alberghiero in modo da evitare che il paziente rimanga per molto tempo in pronto soccorso per dire senza avere neanche una bottiglietta d'acqua tanto per capirci insomma. Un'altra misura che è stata messa in campo è l'attivazione, estensione dei percorsi di fast track che in realtà sono già presenti molti di essi in molti pronto soccorso della nostra regione probabilmente anche in tutti, però chiediamo appunto ai responsabili del pronto soccorso e anche ai direttori generali degli enti di fare un particolare sforzo per garantire che tali percorsi funzionino e che vengono implementati ulteriormente dove è possibile farlo per particolari specialità e soprattutto ovviamente per delle urgenze che siano minori, che siano diciamo gestibili con un percorso di questo tipo. Il fast track è un percorso che praticamente può essere attivato direttamente in fase di triage dall'infermiere in modo che il paziente comincia a fare una serie di accertamenti e quindi non attenda la visita del merito pronto soccorso prima di iniziare il suo percorso di presa in carico. Sono dei percorsi codificati con particolari sintomatologie in particolari condizioni diciamo discipline specialistiche che vengono definiti all'interno del pronto soccorso sulla base dell'organizzazione del presidio ospedaliero stesso e che consentono quindi di far accelerare i percorsi di presa in carico in alcuni pazienti. Poi un'altra misura importante è quella della continuità assistenziale delle dimissioni protette. Questo tipo di misura è stata coordinata con il settore dell'assistenza territoriale dell'integrazione ospedale territorio. Quello che si cerca di fare sostanzialmente è quello di creare dei collegamenti con le unità valutative più diretti con le unità valutative e con il punto unico di accesso in modo da garantire un'attività che sia non più sporadica a seconda delle richieste ma il più possibile continuativa. E contemporaneamente rivedere alcune procedure del SIRTE che è un sistema informativo che consente di proporre i trasferimenti in setting di tipo residenziale evitando magari confinando le valutazioni in presenza solo alle condizioni realmente necessarie e quindi snellire anche dal punto di vista burocratico le procedure di trasferimento. Poi un'altra misura importante è quella di garantire appunto la disponibilità dei medici. Questa è una misura abbastanza complessa, è stata difficile riuscire appunto a metterla in atto e coordinarla con i direttori generali degli enti. Praticamente si tratta di creare una lista di professionisti disponibili all'interno dell'ospedale a partecipare in caso di necessità a dei turni in pronto soccorso per cercare in particolari momenti di sovraffollamento di gestire la coda. Quindi sono elenchi che sono disponibili di settimana in settimana che coprono nelle 24 ore, 7 giorni su 7, eventuali necessità che vengono attivate ovviamente dal responsabile del pronto soccorso di accordo con il direttore sanitario e il direttore generale dell'ente interessato. Questa misura l'abbiamo invece coordinata appunto con il settore delle risorse umane del Dipartimento Salute. Un'altra misura che è stata proposta per questa sperimentazione è la gestione, misura organizzativa per la gestione delle urgenze minori o delle non urgenze, sarebbero le non urgenze i cosiddetti codici bianchi. Le urgenze minori sono i codici verdi ma ovviamente sono una parte, i codici verdi diciamo che dimostrano di non avere problematiche di evolutività. Non abbiamo parlato di codici bianchi codici verdi perché come sapete questa è un'etichetta che viene affibbiata nel momento del triage e quindi questi sono pazienti che in realtà in pronto soccorso non dovrebbero essere gestiti ma dovrebbero appunto ricorrere alle strutture territoriali in qualche maniera quindi cercando di potenziare le azioni a livello degli ospedali di comunità e cercando soprattutto di fare degli accordi specifici con i medici di medicina generale, con la continuità assistenziale anche con i medici di medicina generale durante il periodo di assistenza quindi dal lunedì al venerdì per cercare di stimolarli in qualche maniera ad evitare che le non urgenze possano accedere al pronto soccorso e poi attivando l'hospice service per rispondere alle necessità di pagliazione. Un'altra misura è quella di cercare appunto di definire meglio e tutti di implementare il più possibile i posti letto di hobby. Gli hobby sono dei posti letto che non sono posti letto di ricovero nel vero senso della parola ma si chiamano posti letto tecnici. Sono dei posti letto che consentono in alcune indicazioni di pazienti non farli stazionare in pronto soccorso in modalità inappropriate ma di tenerli su un letto che è un letto praticamente quasi di degenza in modo da concludere un percorso che sicuramente non porta al ricovero in un ambiente ospedaliero ma praticamente consente dopo un giorno 24-48 ore di poter essere dimesso direttamente a casa con gli accertamenti richiesti. Un'altra misura è quella di adeguare comunque il pronto soccorso il più possibile dal punto di vista tecnologico e strutturale per garantire che la maggior parte delle attività diagnostiche possano essere quelle che possono essere svolte in pronto soccorso realmente iniziare e terminare la presa in carico proprio presso la struttura. L'ultima misura è quella che riguarda una particolare attenzione alla definizione di percorsi che riguardano delle categorie particolarmente importanti appunto per l'assistenza che sono appunto i pazienti pediatrici e i pazienti e le donne con problematiche di tipo stetico quindi con problematiche magari vicine al parto e che quindi devono comunque essere identificati in ogni pronto soccorso dei percorsi specifici per questa tipologia di pazienti. Ovviamente molti già sono presenti in molti pronto soccorso però chiediamo che vengano definiti e finalizzati e formalizzati in maniera più puntuale. L'ultima cosa quindi vi lascio con questa non aggiungo altro perché l'assessore mi ha detto rapidamente giustamente è che comunque l'Agenzia regionale sanitaria, il Dipartimento Salute e l'Assessorato faranno un'attività costante di monitoraggio insieme ai direttori generali, direttori sanitari degli enti del sistema sanitario regionale in modo da consentire anche durante il periodo estivo questi due mesi dal 15 giugno al 15 settembre che ci aspettiamo più caldi non solo dal punto di vista meteorologico ma appunto delle afferenze dei turisti per fortuna nella nostra regione e quindi cercando di fare in modo che anche la loro villeggiatura oltre alla presa in carico dei cittadini marchigiani possa non generare criticità nel sistema sanitario regionale. Vi ringrazio. Dottor Gozzini vuole intervenire? Sì, ringrazio dottor Lagalla per le precisazioni sulle slide che abbiamo condiviso nell'impostazione ovviamente grazie all'assessore che ci ha dato l'input forte già un mese a questa parte di prepararci a questo piano trimestrale diciamo di fronte al caldo, di fronte al pronto soccorso, di fronte al turismo e di fronte alle emergenze e sul quale abbiamo lavorato col contributo di tutte le aziende e qui ringrazio i direttori generali delle aziende della regione e i collaboratori degli uffici e dei dipartimenti cercando di mettere ognuno un po' le proprie esperienze e declinandole così come la Galla ha illustrato bene in un piano operativo. Ovviamente come dipartimento e come agenzia vigileremo perché queste cose vengono attuate, verificate prontamente, messe in campo anche se alcune sono già operative sul territorio direi quasi tutte. Chiaramente si tratta di mantenerle anche perché la parte del personale è quella più difficile ovviamente, i numeri devono tornare di presenza di personale medico per garantire i servizi e questo anche su input dell'assessore l'idea di creare se vogliamo delle liste di collaboratori, di medici che dai reparti possono intervenire al momento opportuno in caso di sovraffollamento è importantissimo. Stiamo anche pensando a un'app come in altre regioni che valuta immediatamente lo status del pronto soccorso in qualunque luogo tu sia d'Italia puoi vedere i pronto soccorsi della tua regione e valutarli in base ai codici di afferenza che in quel momento sono attivi e quanto tempo mediamente una persona può aspettare. Questo ti darà la possibilità magari di scegliere un pronto soccorso diverso in base alla gravità o meno del tuo sintomo. Ecco, questa è un'opportunità che stiamo studiando in questi giorni. Grazie. Grazie dottor Gozzini, la Presidente della Commissione di Sanità Elena Leone. Grazie Assessore, buongiorno solo per un saluto e certificare in qualche modo con questa giornata un lavoro importante che stanno facendo l'assessorato, gli uffici in collaborazione con le aziende per prevenire, per arrivare preparati ad una situazione che sicuramente diventa più di stress per il nostro sistema tutti gli anni, cercando di utilizzare al meglio, razionalizzando le risorse e mettendo in campo anche misure nuove che possano essere più incisive per problemi che sono in qualche modo ciclici e che dobbiamo affrontare in questo caso secondo me al migliore dei modi. Quindi semplicemente un affiancamento a quel grande lavoro che stanno facendo. Insomma l'assessore, la giunta e tutte le componenti del sistema. Grazie, allora io intervengo rapidissimamente e poi daremo la parola naturalmente al Presidente Acquaroli. Allora questo è il frutto di un lavoro che è durato mesi, che partiva da un'osservazione particolare che non tutti i pronti soccorsi avevano la stessa organizzazione, quindi ci sono i pronti soccorsi che hanno lobby, l'osservazione breve intensiva, altre hanno la murghe e altri non ce l'hanno. Abbiamo registrato delle criticità molto rilevanti per quanto riguarda la permanenza di persone nei pronti soccorsi che non riuscivano ad essere ricoverate nei reparti per mancanza di posti. Abbiamo rilevato che in talunni occasioni si era registrata una carenza nella somministrazione addirittura di acqua o di cibi e abbiamo naturalmente rilevato la premessa di questo provvedimento che mancano medici con specializzazione di medicina d'urgenza, è mancata la programmazione del nostro ospedale, questa è la premessa. Quindi noi ci troviamo ad affrontare un problema molto critico, però con questo intervento noi vogliamo dare le risposte. Gli italiani e i marchigiani hanno bisogno di risposte, non possiamo ammucchiare, diciamo così, problemi che esistono ma che chiaramente devono essere anche in parte evidenziati. Questo è un provvedimento con cui si stabilisce che se c'è un sovraffollamento il primario del pronto soccorso deve chiamare il medico del presidio, il medico del presidio e il direttore generale e verificare se c'è la possibilità di aumentare l'organico in servizio con i medici con specializzazioni equivalenti. Ci sarà un elenco settimanale da cui si potrà attingere il rinforzo al pronto soccorso. C'è anche un altro ulteriore elemento, la responsabilizzazione dei dirigenti. Io questo lo voglio particolarmente sottolineare perché l'agenzia regionale monitorerà, diciamo così, in modo di uturno l'andamento dei pronti soccorsi e i direttori generali insieme ai direttori del presidio saranno chiamati direttamente a rispondere del buon andamento dei pronti soccorsi. Noi stiamo lavorando, come ha detto il dottor Gozzini, anche sull'idea di creare una centrale unica di coordinamento dei pronti soccorsi così come c'è sul 118, ma questo lo tratteremo quando parleremo della riforma del piano sociosanitario. Voglio infine ringraziare tutti per l'impegno che nei mesi precedenti a Covid e anche attualmente hanno messo tutti i dirigenti esprimere un sentimento di solidarietà vero e di ringraziamento vero nei riguardi di ogni osse, infermiere e medico, di tutta la sanità marchigiana, ma in particolare del pronto soccorso. Credo che nei loro riguardi debba essere fatta una battaglia anche sui trattamenti remunerativi, perché io questo tema lo voglio portare qui anche all'esame di questa conferenza stampa, ma non mancheranno le occasioni in serie conferenze a Stato-Regioni per rivendicare i riconoscimenti, soprattutto al lavoro notturno, festivo, al disagio che queste persone hanno nella prestazione. E soprattutto dire che l'amministrazione regionale, la Giunta, è vicina agli operatori, non per dire siete gli eroi per caso, ma per dire cerchiamo adesso di riorganizzare, di darvi tutti quei segnali possibili di sostegno e di aiuto di cui voi avete bisogno. E' evidente un'ultima considerazione che il pronto soccorso è il front office della sanità. Cioè noi non possiamo dimenticare che la maggior parte dei cittadini, per carenze che derivano da altre questioni, la mancanza di medici, di medicina generale, la mancanza di medici di continuità assistenziale, spesso afferiscono ai pronti soccorsi in modo improprio. Ci sono delle idee, in altre regioni vogliono adottare i provvedimenti anche sanzionatori. Io credo che in questa fase noi dobbiamo vedere chiaramente che i cittadini hanno diritto ad una sanità piena, ad una sanità di qualità, ad una sanità appropriata, soprattutto una sanità gratuita per tutti, perché oggi ho detto anche in altre occasioni che i ricchi non hanno bisogno di una sanità pubblica, evidentemente. Quindi noi dobbiamo garantire in questa fase di grave crisi sociale, economica, lavorativa e così via, ai cittadini della nostra regione una sanità di qualità. Questo è il primo passo per far sì che le criticità che sono state registrate negli mesi precedenti non abbiano a ripetersi. Adesso passo la parola al Presidente, poi se ci sono delle domande da parte dei giornalisti siamo qui tutti per rispondere. Grazie. Grazie Assessore, molto brevemente salutando e ringraziando tutti i dirigenti, i direttori delle aziende e tutti gli intervenuti, il Presidente della Commissione Sanità. Io credo che questo strumento, questo tipo di azioni siano fondamentali in questa fase. Registriamo per tutta una serie di motivazioni che non vale la pena in questo momento ricordare, che però ci consegnano un quadro complicato, complesso, difficile, soprattutto nell'emergenza urgenza, ma non solo nell'emergenza urgenza. Ecco, credo che questo tipo di azioni che noi mettiamo in campo sono volte a cercare di migliorare una situazione complicata. Lo sappiamo, secondo me aiuta a dire che probabilmente non saranno risolutive perché noi abbiamo il 50% di accesso al pronti soccorso che sono codici bianchi e codici verdi, quindi significa in maniera proprio insita una lunga attesa, significa forse anche un utilizzo improprio del codice verde, ma abbiamo pure un'altra consapevolezza che purtroppo nei territori ci sono sia i distretti che i medici di medicina generale in grave carenza e quindi ci sono dei territori sguarniti. In questo senso purtroppo l'effetto è che tutti arrivano al pronto soccorso. Quello che stiamo cercando di fare, e io vi ringrazio, ringrazio l'assessore, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo tipo di proposte, è un percorso che tende a migliorare l'approccio, la gestione e l'efficientamento del pronto soccorso. È uno strumento importante, indispensabile, necessario in maniera particolare in questa fase per cercare di dare una risposta ad un'emergenza di sistema, però dobbiamo comprendere che questa è un'emergenza di sistema, nell'emergenza di sistema quello che possiamo fare è questo. A noi piacerebbe poter dare delle risposte diverse, stiamo lavorando su quelle, però per quelle c'è bisogno di un numero importante di medici da inserire in tutto il circuito, c'è bisogno di un numero importante di medici da distribuire sul territorio, c'è bisogno di un investimento che va a termine nelle case di comunità. Ecco, allora, credo che aspettando questa fase, che è una fase che arriverà fra qualche tempo e a cui stiamo lavorando alacremente, oggi è l'unica risposta che possiamo mettere in campo e mi fa piacere che la nostra regione su questo stia lavorando. Grazie per quanto avete fatto e soprattutto grazie agli operatori che, nonostante i due anni, so che ancora siamo orgogliosi, che ancora stanno reggendo, soprattutto quelli che hanno a che fare e combattere con l'emergenza urgenza, che è un settore particolarmente in carenza, particolarmente in difficoltà, che però è anche un settore nevralgico, perché oggi diventa il primo front office tra la sanità e chi ha bisogno. Quindi noi non possiamo non ricordarci quotidianamente dello sforzo. Ieri in una riunione, e chiudo, la dottoressa Storti ci ha ricordato che sono due anni che non hanno potuto fare ferie. Ecco, io penso i due anni senza ferie e penso anche ai ritmi a cui sono stati sottoposti, penso che anche tutti noi dobbiamo veramente fare uno sforzo di comprendere il loro stato d'animo, comprendere anche il loro stato di salute psicofisica, perché penso che siamo messi veramente, sono stati messi veramente sotto pressione. Quindi ecco, un pensiero sicuramente a loro e un pensiero anche a cercare di migliorare le loro condizioni sia lavorative che di trattamento economico. Grazie, e poi non so se ci sono domande, c'è l'assessore, c'è il dirigente. Allora, se è tutto chiaro... Prego, scusi. Come molte delle risposte, molte dei punti che avete mostrato sono già attivi, come ricordava anche il dirigente. Io parlo soprattutto per il pronto soccorso che conosco meglio, che è quello di Torrette. Il manager c'è da tre anni e tutte le misure sono già operative. Era per capire, lei l'assessore parlava giustamente del fatto che la maggior parte delle persone che afferiscono al pronto soccorso non avrebbero bisogno di andare in pronto soccorso. Codici bianchi e codici verdi. Voi pensate in qualche modo di come potete intervenire per la questione, per esempio, di far pagare un ticket alle persone che vanno in pronto soccorso, se è possibile, se c'è una modalità in qualche modo, perché in quel modo si limiterebbe del tutto il problema. Perché la maggior parte delle persone che vanno in pronto soccorso oggi non dovrebbero andare in pronto soccorso. Sulla prima domanda del bad manager, il bad manager, teniamo conto che questo è un provvedimento che riguarda la sanità di tutta la regione, non solo dell'ospedale di Torrette, l'ospedale regionale. Il bad manager c'erano, però non avevano i poteri che noi intendiamo dovessero avere. Quindi l'indicazione che è stata data da dirigente è che il bad manager effettivamente ha il potere di far ricoverare qualcuno in un reparto. Cioè non è che è una figura... Il bad manager avrà il compito di essere coordinato dai funzionari dell'Ars perché se ci saranno delle disfunzioni è chiaro che il bad manager dovrà riferire sulle disfunzioni. Quest'atto viene cristallizzato rispetto a delle direttive che erano state emanate nel corso degli incontri ma adesso c'è un atto da cui conseguono degli obblighi e conseguono delle responsabilità. Chi non lo fa se ne assume la responsabilità. Era stato più volte sottolineata l'esigenza che ci sia un coordinamento. Diciamo che però le quattro aziende ospedaliere, le quattro aziende sanitarie più le cinque aree vaste e nove soggetti che si dovrebbero coordinare hanno dimostrato spesso di non potersi o di non volersi coordinare. Questa è una questione. La sanzione per chi accede con codici bianchi non credo possa essere un'ipotesi praticabile perché diciamo che una persona che arriva al pronto soccorso con dei sintomi poi all'esito del triage viene valutata la sua condizione. Non credo che nessun medico possa assumersi la responsabilità di di vai a casa perché non hai nulla. Noi stiamo valutando insieme all'azienda Asur, in questo momento questo non sarà possibile ma nei prossimi mesi dobbiamo immaginare che i distretti funzionano anche il sabato e la domenica. Non certo adesso che devono fruire le ferie, ma non c'è dubbio che il sistema primario debba assumersi il peso delle sue funzioni, quindi medici e medicina generale. Quindi come ha detto il Presidente stiamo lavorando sugli studi associati, stiamo lavorando sulle case di comunità, stiamo lavorando un po' su tutto ciò che dovrebbe limitare l'accesso ai pronto soccorsi. Però in questa situazione specifica diciamo che c'è un segnale adeguato, nel senso che ci sono le persone che devono informare. Adesso noi andremo a verificare se nelle astanterie, nelle sale di aspetto ci saranno le persone che informano. Noi siamo stati informati, per esempio ci sono state delle risse, proprio perché per mancanza di informazione. Questo sarà un obbligo. Il secondo tema è quello dei panel, non in tutti i pronti soccorsi c'è il panel che ti avverte se un cittadino accede al pronto soccorso con il codice verde o il codice bianco e sa che ci sono in arrivo dei codici rossi, è chiaro che sa perfettamente che deve aspettare. Il bad manager che deve informare e poi in caso di sovraffollamento, se ci sono delle persone che aspettano da ore e qualcuno se ne deve preoccupare. Fino ad oggi il tema era che aspettiamo perché non c'è soluzione. L'altra, non per ultimo, la questione delle liste. Le liste deve essere chiaro che o volontariamente o d'imperio le liste dovranno essere realizzate, non è che si può eludere. Qui siamo in presenza di un servizio continuativo che deve essere garantito ai cittadini. Tenendo conto che già sono sotto organico, alcuni devono fare vacanze e ci sarà sicuramente un accesso di maggiore quantità derivante. Se l'afflusso sarà quello del 2 giugno, noi avremo una stagione turistica importante, quindi ci dobbiamo preparare. Io vorrei solo aggiungere che la sperimentazione del modello in alcune realtà ha funzionato. Non arriviamo al provvedimento che leggendolo sono tutte cose anche ovvie, evitare quello, evitare l'altro. Io l'avrei fatto anche un po' più stringato. Scusate, c'è una domanda da... Sì, prego, prego. Il dettaglio comunque ci chiede, vorrei sapere a che punto è il concorso regionale per il reclutamento di medici dei vari obiettivi, per il 39 posti. Se si sa già, ad esempio, il numero delle candidature arrivate, se qualcuno... Sì, adesso rispondiamo ai dirigenti, io non lo so, non mi occupo di concorsi. Adesso c'è la dottoressa Storti che ci risponde, grazie. Allora, abbiamo fatto la ricognizione ieri e risultavano presenti due domande sui 39 posti messi a concorso. Quindi non è ottimistica la previsione. Chiedo scusa, però vorrei che questa informazione, cioè, potevi dare, chiedo alla dottoressa Iacomucci di non allarmare, perché sennò noi possiamo dire le domande quando il concorso è chiuso. Che diciamo le domande quando il termine non è chiuso? Chiedo scusa, eh. Beh, se non ci sono... Se non ci sono altre domande, ringraziamo tutti e vi auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie. 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 Grazie.